40 scatti fotografici per percorrere ogni angolo del territorio comunale, individuando e documentando luoghi abbandonati o degradati, diventati oggi posti in cui si consumano situazioni difficili di emarginazione e disagio. Così Massimo Soletti, studente universitario, ha scelto di raccontare la povertà ad Arezzo con la mostra Vite Sparse, ospitata nella Casa delle Energie e realizzata con il convinto supporto della Caritas Diocesana e della Fraternità Federico Bindi Ollus e con il patrocinio del Comune di Arezzo. Il percorso espositivo è la testimonianza di un impegno personale, maturato in una lunga esperienza nel mondo del volontariato, che ha permesso all'autore di conoscere e di stare a contatto diretto con la povertà. Il percorso è un percorso indiretto, quindi viene esclusa di per sé la figura umana, ma vengono inserite i contesti, le condizioni in cui queste persone abitano, o meglio occupano luoghi e spazi per abitare. Dall'altra parte il tema è duplice però, perché si tocca anche il tema della perdita di lavoro, della perdita di occupazione, dell'impossibilità, o quindi l'assenza della figura umana determina l'impossibilità, l'incapacità di continuare a produrre e l'erosione del valore per alcune realtà e imprese del territorio. Credo che ogni ruolo, a cominciare da quello pubblico, ma anche la Chiesa, dobbiamo fare del nostro meglio per ragionare su questi squarci di umanità che Soletti ci ha offerto. Anche da un punto di vista cristiano, come carità, bisogna ritornare veramente a rinterrogarci sull'uomo. L'abbandono, la povertà non è soltanto quella del bisogno del pane. Oggi c'è bisogno veramente di recuperare anche tanta dignità. Per visitare la mostra ci sarà tempo fino al 29 novembre. A rinforzo della tematica proposta, inoltre, il 22 novembre alle 17.30, sempre nei locali della Casa delle Energie, si terrà l'incontro dibattito oltre alla povertà, in cui i politici e operatori nel sociale svilupperanno alcune questioni legate alla povertà e all'emergenza abitativa.